Buon pomeriggio e bentrovati. Ognuno ha la sua curva, come si dice, ciascuno ha la curva che si merita, punto interrogativo. Noi abbiamo visto delle indagini importanti che riguardavano la curva della Juventus con relativi provvedimenti. Non ho visto questa notizia se non proprio a latere da qualche parte, ma c'è, riportata dal Fatto Quotidiano, ed è un'indagine inedita a livello nazionale, condotta dalla Dicos, che ha portato alla luce l'anatomia criminale che si cela dietro la curva Nord, la parte più calda che il tifo dell'Inter. Ora non facciamo le verginelle, ciascuno ha chiaramente, sappiamo perfettamente come alcune questioni funzionino. Nel mirino delle autorità investigative c'è l'uomo d'affari, noto come lo zio Vittorio Boiocchi, che, dominatore di affari e traffici illeciti, la sua influenza ha permeato la scena per poco più di tre anni, dal 2019 fino alla tragica morte sotto casa il 29 ottobre del 2022. Il libro mastro di questo signore, liberato nel maggio del 2018 dopo tre decenni di carcere, rivela, secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, una serie di attività poco chiare, losche, tra queste accessi illegali allo stadio, bagarinaggio con la complicità di alcuni dirigenti dell'Inter, che non sono sotto inchiesta, anzi lo sottolineiamo, anzi sono ritenuti parte l'ESA dei PM perché vittime dei comportamenti minacciosi degli ultra, gestione di parcheggi VIP, investimenti sale scommesse, conti bancari, cassette di sicurezza e legami politici di alto livello. Al centro di questa trama, attenzione, spunta un'associazione che si chiama We Are Milano, originariamente creata per organizzare eventi benefici in collaborazione con la comunità Exodus di Don Mazzi. Tuttavia, secondo la Digos, la realtà è ben diversa, si tratta di una facciata legale utilizzata per inserire nel Consiglio due euro parlamentari di cui non facciamo i nomi, al fine di conferire la maggiore credibilità e facilitare i contatti con la dirigenza dell'Inter, considerando che la società di calcio e le società di calcio non possono interloquire direttamente con gli ultra. We Are Milano però è ora soltanto uno dei tanti rami di un'associazione dell'Inquer all'interno della Curva Nord, con collegamenti al calabrese Giuseppe Caminiti, parente di un narcotrafficcante dell'Andrangheta, responsabile della gestione dei parcheggi VIP dello stadio. Le indagini rivelano che Caminiti è stato stipendiato dalla società Kiss & Fly, parte di un consorzio con un contratto di gestione da un milione di euro con Mi Stadio e SRL equamente diviso fra Inter e Milano. Il Consiglio di Amministrazione di Mi Stadio ha visto alternarsi politici e figli di politici. Vi lascio immaginare. L'indagine della Procura di Milano, ancora aperta, si è concentrata sulle dinamiche interne alla Nord, con particolare attenzione alla gestione imposta da Baiochi. Dopo la sua morte il direttivo è stato modificato, ma i soggetti già legati all'organizzazione del cosiddetto zio sono rimasti coinvolti nella gestione. Il controllo della Nord è ora nelle mani di un ristretto gruppo noto come il Cerchio Magico degli Otto, che si riunisce settimanalmente. Figurano degli elementi riducibili e membri di estrema destra. Insomma, da un lato gli affari e da un altro c'è l'ala militare, addestrata per gli scontri nelle palestre del corvetto. Del resto, il modo di rapportarsi con la società interna di richieste avanzate, scrive la Digos, segue una logica di stampo mafioso con tentativi di intimidazione finalizzati al raggiungimento di scopi illeciti. Il piano è tessere rapporti in un delicato equilibrio, spiega la Digos, fra l'incutere timore e l'attenzione a non palesare un'esplicita minaccia. Siamo proprio al limite. Salvo poi rivelare la vera natura violenta e criminale quando le circostanze non rendono più efficace questo genere di approccio. Indicativa la gestione di biglietti e tessere, quindi centinaia di ingressi abusivi registrati dalla Digos e quindi con un evidente rischio per la sicurezza pubblica. C'è anche poi il controllo del bagarinaggio, gestito per la tessere nel retro del baretto, che mette in evidenza un serato controllo del territorio da parte della curva per evitare che altri bagarini lavorino. Questa è la situazione della curva dell'Inter, riportata dal Fatto Quotidiano e da pochissimi siti, Curva Nord. Anche noi abbiamo avuto i nostri problemi, l'ex presidente Andrangnelli li risolvete e sappiamo in che modo, però non mi sembra di aver visto i titoloni che sono stati fatti, realizzati ai tempi della Juventus. Ci vediamo presto, grazie ancora. Grazie. 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 Grazie.